Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White, siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 perché? Perché nella giornata del 25 novembre Electronic Arts ha rilasciato la prima grossa patch di questo FIFA la patch 1.04 quindi FIFA ha aggiornato e pesa circa 250 MB la console è disponibile sia per Xbox 360 e PS3 sia per Xbox One, PS4 e PC quindi aggiornate appena mettete dentro FIFA vi chiederà di sicuro di aggiornare il gioco cosa cambia? Cambiano un po' di cose, sia un po' di bug minori quindi vanno a correggere un po' la stabilità che il gioco magari crashava troppo eccetera eccetera sia il gameplay ed partirei proprio da questo per parlare di questa patch e di cosa è cambiato dopo un po' di partite che ho fatto, prima andiamo a vedere cosa dicono loro e poi cosa ho riscontrato io sicuramente miglioramenti, questo credo che sia il punto forte di questa patch miglioramenti per la difesa soprattutto il posizionamento e un nerf quindi hanno nerfato i passaggi filtranti alti iniziamo dalla difesa uno dei più grossi problemi di FIFA 15 perché? perché gli avversari spesso partivano addirittura da metà campo e andavano in porta come nulla quindi capitava che l'avversario prendeva palla e andava in porta e voi ciao non potevate starli neanche dietro i difensori spesso erano fuori posizione, si facevano scavalcare troppo facilmente dai dribbings, dai giocatori agili eccetera eccetera è cambiato qualcosa? secondo me no, non è cambiato più di tanto perché non mi sembrano i difensori molto più svegli di prima cosa è cambiato però? sui passaggi filtranti alti i passaggi filtranti alti sapete quanto sono odiati perché? perché sugli 1-2 centrali praticamente non si può difendere perché i difensori sbagliano completamente e non coprono quindi un avversario prende parte e va in porta quindi poi coniughiamo questa efficacia con giocatori veloci che non permettono di essere recuperati in contropiede e capite perché poi si vedono anche partite tennistiche cosa è cambiato? questo però devo ancora testarlo bene perché ho provato solo 5-6 partite non abbiamo ancora la certezza assoluta sembrerebbe che sono leggermente più scarsi questi passaggi perché? perché è diminuita la percentuale di realizzazione quindi se prima ne mettavamo 9 su 10 adesso ne mettiamo 6 su 10 poi ovvio con un Pirlo, con un Totti, con uno Xavi è più facile farli rispetto a un Ibarbo per questo l'ho notato quindi secondo me questo l'hanno cambiato quindi sono intervenuti sotto questo aspetto adesso aspetterei comunque un paio di partite e comunque la vostra opinione altra cosa che hanno aggiunto sono i nuovi volti per le tre squadre di Premier League neopromosse quindi il Leicester City, il Burnley e il QPR, i Queen's Park Ranger hanno avuto nuovi volti per i loro giocatori delle squadre non ci sono nuovi volti per la Serie A difficilmente li vedremo, anzi al 100% non vedremo nuovi volti perché ricordiamo che Electronic Arts è partner forte con la BPL altra cosa, questa particolarmente per Ultimate Team hanno corretti problemi di latenza quindi a volte capitava che un giocatore veniva associato a giocatori da altra parte del mondo quindi magari vi capitava da un giocatore europeo invece che per rendere altri giocatori vicino a voi andavate a giocare contro asiatici, australiani, americani eccetera eccetera con il rischio di vedere la partita laggare fortemente e aggiungo hanno aggiunto due nuove squadre con i kit, i giocatori eccetera eccetera a FIFA 15 Ultimate Team dell'MLS, Orlando City e New York City che da quest'anno arriveranno dentro l'MLS vi ricordo che New York City, se non dico una cagata è di proprietà del presidente del Manchester City quindi è sempre una squadra ci sono in giro voci su possibili magheggi però già il fair play finanziario tipo che New York City prenda un giocatore a 30 milioni e poi lo presti gratuitamente al Manchester City così hanno fregato il fair play finanziario ma questo è un altro discorso ditemi un po' voi cosa ne pensate di questa patch vi metterò il patch note in descrizione noi ci vedremo presto ciao a tutti